Martin Schulz, il presidente dell'Europarlamento, è diventato cittadino onorario di Monforte d'Alba. La cerimonia si è svolta sabato 10 ottobre. L'idea di conferire a Schulz la cittadinanza onoraria di Monforte d'Alba, ha spiegato il sindaco Livio Genesio, è nata dopo che l'anno scorso il presidente del Parlamento europeo, in collegamento video da Bruxelles durante l'inaugurazione della Fiera del Tartufo, aveva annunciato in diretta, nello stupore generale, che conosceva bene l'Alanga perché da anni ci veniva in vacanza.